L'odio è una palla al piede. La vita è troppo breve per passarla sempre a arrabbiati. Non ne vale la pena. Non siamo nemici, ma amici non dobbiamo essere nemici. Anche se la passione può averci fatto vacillare, non deve rompere i profondi regani del nostro affetto. Le corde mistiche della memoria risuoneranno quando verranno toccate, come se a toccarle fossero i migliori angeli della nostra natura.